e proseguirà per tutto il mese di novembre fino alla prima settimana di vicenda. Ovviamente poi ci sarà, questa nella fase intensiva, quindi abbiamo le quattro settimane intensive di vaccinazione e poi ci sarà possibilità comunque per le persone all'interno dei nostri distretti, del nostro ufficio di continuare ad essere vaccinati. Lo slogan di quest'anno è vaccinarsi è un bene per tutti, rivolendo risottolineare il fatto che la vaccinazione non è solo un atto di protezione personale ma che aiuta anche a fare in modo che ci sia poi, se le percentuali sono alte, di avere un livello di protezione anche per le persone che ci sono intorno.